Sta aumentando la povertà economica e sociale a Benevento, a dichiararlo il direttore della Caritas, Don Nicola De Blasio, che ha tracciato stamane un primo bilancio dell'iniziativa solidale Il Paniere Covid-19, una iniziativa nata con l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri e ha come location la ex caserma Lievi Carabinieri di Viale Atlantici, un aumento del 45% di domande con poche risorse finanziarie. Le domande che sono arrivate sono state molte ma molte di più, quasi abbiamo avuto un aumento del 40-45% rispetto alla prima tornata. Purtroppo non abbiamo le risorse finanziarie per riuscire a soddisfare tutti e quindi abbiamo dato una priorità che chi l'aveva ricevuto nel primo turno non fosse messo in secondo piano e nella gradatoria, però siamo certi che poi appena finisce questi tre giorni che faremo qui, 6-7 e l'8 maggio, riprenderemo come stiamo facendo al Market Solidale e quindi le persone che in questo momento non hanno avuto qui alla caserma riceveranno poi al Market Solidale sicuramente qualche cosa. Circa 300 i panieri consegnati nella prima fase, solo nella mattinata di oggi sono stati consegnati per l'avvio della seconda fase 140 panieri per le famiglie bisognose di Benevento. Così il capitano Vincenzo Falce, comandante della Compagnia dei Carabinieri, che parla di un lavoro sinergico e continuo con la Caritas di Ocesana anche per questa fase che va dal 7 al 9 maggio e sarà molto più impegnativa. È qualcosa di molto bello, di importantissimo per le persone che in questo momento di difficoltà a maggior ragione hanno nella quotidianità maggiori problemi, per cui nasce l'idea di questo paniere solidale che è in rapporto, in funzione del numero delle persone che compongono il nucleo familiare. Oggi in tutta la giornata fino alle 14 dovremmo distribuirne circa 140, siamo in linea con la scaletta di marcia, ne abbiamo infatti una settantina, un'ottantina.